sono le otto di sera del 29 di luglio in cima al mondo sulle dolomiti a piz l'aila 2.000 e qualcosa 2.100 arcobaleno per tutto il trail in solitaria un'oretta un'oretta è qualcosa contando tutte le foto è stupenda dole miti spettacolari ciao a tutti gli orchi e continuate le gite in natura che sono la cosa più bella che ci sia viva gli orchi un saluto a tutti da orco vale ciao ciao